Buongiorno a tutti raga, qui è 2087 e oggi siamo tornati sul Limbo. Allora sono passati secoli per me dall'ultima parte, se mi direi sono degli occhiali diversi è perché a quegli altri andavano la lente e quindi ora sono da riparare, quindi uso questi qua per ora. Quindi allora, ci eravamo lasciati qui e andavo avanti con un mio amico però, allora, io ero nato e andavo avanti con un mio amico però la parte era andata perduta. Allora, però potendo rigeocare i capitoli, se noi tornavamo qui dove eravamo e eravamo qua... Oh, non morirmi! Oh, salta, salta! Ok! Vai! Salta da sto ninja! Porca taglia che sono scampata di brutto! Allora... Caldo! Non me lo ricordavo! Nemmeno questo mi ricordavo! Allora... Sia ma... Oh, ah, da qui? Sì, andate! Oh, vai! Vai! E' ok! Scusate, la lieve tosse! Ehm, questo pezzo mi sta tanto ritrollata. Mi sta tanto ritrollata, sto pezzo. What? Pensi che io ci... Eh, ma... Oh! Eh? Sono morto? What? Ah, già, solo un... Soltanto un control interagivo. Ma perché? Funziona anche il control destro. Boh, no, vai, faccio quello sinistro. Eh, vai! Salta! Oh, no, 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 no! Questo non potevo scanzarlo! Questo non lo potevo scanzare! Oh! Ok, aspetta, veloce, perché mi ricordo che ne arrivavano altri. Vai, vai, vai! Oh! Allora, brutti strozzi, eh! Dai! No, 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 non volevo sal... Allora... Vai su! Allora, metti su questa scaletta! Allora... Oh! Ciao, amico! Stai... Pensi che io non l'abbia vista? Ok, aspetta... Aspetta... Non mi ricordo di quale partiva prima! Oh! Oh! Che cazzo io sto andando via! Non è possibile! Ok. Da dove mi fa ripartire? Ah, da qua, bene. Non mi ricordo assolutamente come si supera questa cosa. Aspetta... Questo è il migliore, effettivamente, come si supera. Ah, ok! Così si superava! Perfetto. Ah, quella non potevo più passare. E passavo... Da qui! Salto qua... No! Ti torno qui, stronzo! Ok. Vai! Salto a dire non morirmi... Gentilmente. Ti devo trovare un nome! Devo trovarti un nome, amicettino mio! Ehm... Allora... Ehm... Vediamo come si potrebbe chiamare. Oh cazzo no! Aragog è tornato! Tornato Aragog! Scappo da Aragog! Scappo da Aragog! Questo me lo ricordavo! Aspetta, questo me lo ricordavo! Dovevo aspettare arrivassi lui! Aspetta... Aragog! Aragog! Bene! No! No! Sono morto! Il punto è che così devo saltargli preciso con questo! Spingi il tronco! E ora aspetta... Vai qua! Dai Aragog! Che... Finn! Ti chiamerò Finn, amico mio! Ehm... Allora... Certo, ha perso un po'... Un po' Jake di questi tempi... Vali! Salta, salta, salta! Finn! Oh! Grande Finn! Perché stavo saltanellando? Oh! No, no, no! Oh! Ho capito, ho capito, ho capito! No, no, no! Vai, vai, vai! Quindi devo fare... E ora tornava! Oh! No, no, no! Oh! 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 Che botta di culo! Che botta di culo! Ok, da qui non mi ricordo cosa accadeva. Ehm... Dovevo... Ah, giusto. Questa, come l'impressione, mi tornerà indietro. No. E anche adesso mi sono tanto di scollata. Allora, aspetta, vai! Vai, Finn! Questo, questo... Ah, no, ok. Mi sapeva tanto di inculata alla fine. Ehm... Ehm... Sta cadendo... Troppa poca roba. Wow! Che cazzo... Oh, ma ancora! Ah! Ah! No no E Sta scagliando Me lo ricordavo Ok Che schifo Devo scapp... Non guardo Non guardo Mi fa schifo guarda il riflesso nella finestra non vedo un cazzo il riflesso nella finestra vedo soltanto la luce dell'alancola almeno Aran Gogh è morto aspetta andiamo di qua ah ciao Corvo ah no tizio sta bene lì dentro ti godi il panorama la bella vita forse la bella vita che avevi se la godi no non sei ok qui cosa posso saltare sulle gabbie no ah che cosa ah le cose di quella sono allentate ok aspetta forse posso usarla in qualche modo qua giù ah oddio ragazzi la genialità la genialità di Ben allora niente mostri all'improvviso niente screamer dimmi di no cos'è questo devo saltare su questo tizio no sono affogato e beh cosa devo fare anche questo tizio qui però idiota ok ok dovrò aspettare probabilmente dovrò aspettare arrivato sto qui per saltargli addosso ok vado qua però se scendo non torno più se scendo non torno più da quella parte e qualcosa ti dice se scendo mi cade anche la fa in testa allora vediamo se c'è qualcosa che posso mi ha lanciato un sasso mi ha lanciato un sasso brutto stronzo tu non mi lanci un bel nulla allora vediamo se qui c'è qualcosa che posso usare vediamo oh spero 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 mi sei inserciato nel visto no posso usarlo no ragazzi questa intenzione è giusta non penso sia giusta perché non ti mettono così a caso aspetta vai spingilo per il culo prendilo per il culo oh cosa avevo ragione allora non so che sia questo affare ma le bocche di super meat boys vai vai questa è l'inculata no eh amico boh Jack è proprio inospitale in tutto questo mondo in bianco e nero anche aspetta ma porca puttana come cazzo è successo questo ah forse devo saltare su questo ah ok anche qui uguale no ok la seconda mi sa che va al contrario allora questa qui qui questa salta la cosa e aia oh oh no oh no no salta 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 oh oh no merda me lo ricordavo al contrario ok allora ho visto di quei tre il primo muore gli altri forse devo farli schiacci spiaccicchiettare da questo non l'hanno fatto prima andiamo non l'hanno fatto prima aspetta qui 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 fermo vai il primo vai è il terzo schiacca dai vai vai è tutto stronzo che fa il turno adesso eh ora la mia paura è che si risolletti mentre passo vai non morire con la domigliosa perfetto qui invece che cosa abbiamo no 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 what Allora Questa scende Questo che cosa è? A cosa può Giovanni Sto arrello? Mamma Spingilo Spingilo No Ah e forse è stata sopra Tira per l'altro Aspetta Eh però se vado su queste sedie Muoio Questo scende Mi sa che adesso ce la faccio? No No non ce la faccio Aspetta forse ho capito Devo Ah ecco cosa può giovarmi il carrello Il carrello della spesa della 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 coppe Della coppe Allora vai Vado qui Non farti segare dalle lame Ora scendi Riafferralo Appena sei arrivato giù Riafferralo Riafferralo Ok Ok Credo tirarlo giù tutto quanto Vai Veloce 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 No 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 Riafferralo Speravo di avercela fatta Allora Di qua Falta Che rifai questo affare Per la mia prima volta Ah no Le posso buttare Perché non mi serve Vai Di qua Afferralo Prima e torni su Prima e torni su Ah E non seganti E ora Con questo Tutto quanto Con questo Vai 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 Sì Ok Sperare Sperare Che ora Ci siamo Un certo Point Ok Funghi Wow Era una rana Era una rana Una rana Ma Era froggy Era froggy E' tornata Da di Cos'è questo Schifo Che What Che cosa Non lo posso più E controllare Io Andrò A sinistra Non mi fa A sinistra Oh Non lo Trollo Non lo Trollo Io raga Me lo Giuro Oh Però Posso ancora Farlo Saltare Ah Però La luce Che sta A fare La luce Mi fa male Oh Io vi giuro Sono stata A caso Ma secondo me Questi affari L'hanno salvato Il culo Ma parecchio Allora Di qua che cosa abbiamo Leve Leve Una leva Non posso attivare Ah no Posso attivarla Ma non mi serve A nulla Frogghi Frogghi No Non scappare Frogghi Di qua che cosa c'è Vediamo se di qua C'è qualcosa Può esserci utile No Mi so che si va Di qui Muoio Quindi Si provosti ad andare What Salto lungo Salto lungo Salto lungo Mi serve a qualcosa No Mi serve a qualcosa Strana Ne sono certo Vai Dai là No Crogi Vatti ne crogi Da questo modo Non ti voglio Ah No Fatemi martire Tutto Ah La 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 Di bocca La Di mosoli Boh Che Genre Che sono Allora Siamo andati a 20 minuti Quindi Da Tra po' Di stoppare Il video Non mi sa che si vado qua Muoio No No Ah Ok Mi torna Mi torna E che sono troppo stupido Per capire le cose Il punto è a cosa Qua 6 minuti Riusci a so Non capisco Ah Non ti voglio Fai i pali Sovraccarico E ora inizia a piovere Così c'è il suo motivo Così c'è il suo motivo Ho fatto piovere Io sono il figlio Prende la pioggia Ah Che aspetta Devo Far salire Il livello Dell'acqua Geniale No 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 Ok Aspettate Cerchiamo di Sovracca Staffare Da prossima parte Perché siamo Già a 20 minuti Quindi Direi che Settings Cos'era Controllo Ah Non c'è modo Di cambiarlo Ok Direi che Ah ok Quindi direi che Possiamo lasciarci La prossima parte Lasciate un mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Ci vediamo La prossima parte Di Limbo Oh